A volte si fanno delle grosse cavolate. Eh già, quindi oggi vi facciamo vedere ben tre cose che uno non ricopriamo mai più, due che si sono rivelate delle grandissime cagate e una cosa è totalmente inutile, almeno per il momento. Ovviamente vi daremo anche delle soluzioni alternative così che voi possiate acquistare qualcosa di sensato, il link qui sotto in descrizione come sempre, ma prima di partire... Momento sponsor! Se sei alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a Windows 11 oppure stai cercando una licenza per Office, così per i vostri lavori, e spendere veramente poco, UKIS fa sicuramente al caso vostro. Qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto, risparmierete ben il 20% su tutti gli acquisti. Il sito è molto molto semplice da utilizzare, una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard. Andate a copiare il codice di riferimento, ad esempio quello di Windows 10, e poi procedete andando nel pannello di controllo, seguendo la procedura di attivazione di Windows, incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto. Lo può fare veramente chiunque. Vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Hold up! Wait a minute! Nice! Hey yo, what the fuck? Questa Stream Deck Plus mi sta facendo uscire di testa. Vedete cosa servono questi analogici se poi non ci posso fare assolutamente nulla? Cioè, di base non c'è nulla. Se vado sullo store ci sono, sì, delle cosine carine, ma praticamente poco nulla. Cioè, tutti quei programmi che dicevano non sono ancora arrivati. Quindi quelli non possiamo utilizzarli? E questi sono belli, belli, molto belli. Scusa, ma quanti gradi stanno in camera? Tanti. No, perché vorrei ben dire, cioè, tipo la sauna, non lo so. Cioè, tra, penso il riscaldamento e tutto, avremmo tipo questo, voglio dire. Avremmo circa 30 gradi e io ho la felpa e sto morendo. Ma scalda un botto, cioè. Mi strappo la pelle a morsi e forse risolviamo la situazione. È vero che avremmo potuto metterlo là sopra se non ci fosse stato quel lampadario terribile che avete visto anche voi. Il problema più grosso però sai cos'è secondo me? Fa un gran casino. Io non sento neanche l'audio del programma qua, stiamo guardando camera a caffè. Non si sente niente perché le ventole fanno un casino atmosferico. Ma poi scusami, è anche storto, cioè, non lo so. Ma mettilo dritto la prossima volta, io non lo so. Ma perché si storta sempre di più? Alla fin dei conti è stata una scelta legata solo al fatto che avevamo già questo proiettore in casa perché se no io non l'avrei messo mai più, cioè, almeno non l'avrei più messo. Mi sembra stupido, non lo metterei neanche nella nuova camera. Ed eccoci qua adesso a dirvi effettivamente quali sono le cose che non vanno per ciascun prodotto. Portiamo dall'ultimo, visto che l'abbiamo fatto vedere, ossia la Elgato Stream Deck Plus. Esatto. Beh, allora, è un buon prodotto, l'abbiamo fatto già vedere qui su questo canale, quindi non è che vi stiamo dicendo il contrario di quello che abbiamo detto in passato. Io avevo fatto una postilla molto importante, avevo detto, qualora avessero introdotto dei plug-in per i nostri controlli analogici, allora avrebbe avuto un senso, cosa che non hanno fatto, se non in minima parte. Questo in cosa si traduce? Che anche voi quando aprirete il programma della Stream Deck non avrete la possibilità di poter accedere proprio alle voci delle varie singole manopoline e quindi di conseguenza customizzarle. Assolutamente, e questo è un problema secondo me perché comunque rende poco utile avere un prodotto di questo tipo perché risulta essere solo per lo stream con la scomodità di avere solo 8 tasti fisici, sebbene possiamo averne infiniti virtuali, chiamiamoli così, però solo 8 sono pochi. Esatto, più che altro perché noi, soprattutto nella nostra condizione in particolare, sia facendo streaming in due, abbiamo bisogno sia della schermata per quando siamo da soli, sia per la schermata di quando siamo tutti e due a giocare insieme, no? Per cui avere soltanto quegli 8 tasti in fila è molto molto limitato proprio a livello grafico e anche della usufruibilità dei tasti di per sé, no? Quindi la Stream Deck classica è la migliore soluzione adesso per ora attualmente. Poi ovvio, quando i plug-in saranno disponibili sicuramente sarà un ottimo acquisto. Infatti io pensavo già di poter integrare le varie funzionalità del mixer audio di OBS, cosa che non si può fare, ma neanche poter mettere in muto schiacciando il tasto analogico, quindi niente, da questo punto di vista non vi consiglio per ora l'acquisto, sicuramente sarà un validissimo acquisto quando ci sarà uno store di plug-in migliore. Esatto, il secondo prodotto è la macchinetta del caffè. Però qua non è che serve commentare, l'avete visto un po' il problema qual è effettivamente, cioè che non la parte del montalatte effettivamente non va, ma anche le funzioni annesse perché alla fine anche la parte del caffè non è che è uscita proprio perfetta, perfetta, quindi è come se ci stesse dando il segnale che sta lentamente morendo anche la parte del caffè, mentre quella del latte praticamente dopo neanche un anno di utilizzo è morta, deceduta, defunta, caputte. Mettiamo le mani avanti, nel senso noi abbiamo fatto pulizia costante, cioè ogni volta che usavamo il latte pulivamo tutto, dall'inizio alla fine smontando ogni singolo pezzo, abbiamo fatto la decalcificazione due volte nel giro di pochi mesi, quindi insomma abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per quanto riguarda la manutenzione, però come avete visto disastro totale, cioè lì è uscito letteralmente latte, poco, neanche quello che sarebbe uscire. Uno schizzo. Cioè più liquido forse del latte stesso che hai messo, quindi secondo me l'ha mixato anche con dell'acqua perché ovviamente c'era il vapore, quindi no, terribile. Vi consigliamo altre soluzioni qui sotto da una semplicissima macchinetta, voglio dire un montalatte come diceva lei a parte, che può andare sicuramente meglio perché costa poco e comunque fa un gran bel lavoro. Quindi per quanto ci riguarda purtroppo bocciata. Esatto, c'è veramente poco da dire. Ultimo prodotto, il proiettore. Il proiettore non è che ha un problema di per sé, perché è veramente figo messo in un determinato contesto, no, tu lo volevi mettere una volta giù in taverna. Il problema è che in camera da letto soffocchiamo. Sì, è caldissimo, emana un calore esagerato, di per sé consuma tanto, questo non l'abbiamo detto prima ovviamente, però è vero, consuma veramente tantissimo. Abbiamo già dovuto cambiare una volta la lampada nell'arco di due anni e mezzo, tre, quindi comunque c'è una spesa da fare, non poco, quindi già dobbiamo aggiungere, quindi al costo del proiettore, nel nostro caso al costo anche di un telo, perché non avevamo un muro bianco, anche la manutenzione. Quindi alla fine dei conti un bel televisore 4K qualsiasi vi conviene, perché un 4K non OLED vi costa anche 300-400 euro sui 55 pollici. Esatto, e c'è anche da dire che questo non te l'ho detto ieri sera, perché poi sono crollata a dormire, ma ci sta proprio un pixel che è defunto. E poi sicuramente fa anche tanto rumore, cioè comunque le ventole si sentono, e la sera magari non potendo neanche disturbare chi abita sopra o sotto di voi, è un po' limitante, ecco. Ok, poi bisogna dire che magari le domande arriveranno, comunque i commenti potevamo mettere sul soffitto. Allora, a parte noi non potevamo purtroppo che c'è un lampadario ingombrante terribile che dovevamo tenere, quindi per ora non potevamo farlo, ma anche volendo poi si creano altri problemi, perché ora quantomeno riusciamo a ascoltare dalle casse del proiettore, altrimenti avremmo potuto portare l'audio giù, collegarlo magari a degli speaker vicino al letto, oppure usare delle cuffie, insomma. Ci sarebbero stati altri problemi, di conseguenza a meno che voi non facciate qualcosa a livello di sala dedicata, oppure un soggiorno magari, non ve lo consigliamo per niente. Poi, se avete la sala disponibile, un bel muro bianco e tutto, sicuramente vi fate effetto cinema e la cosa non è brutta. Esattamente. Quindi ragazzi, questi erano appunto i tre prodotti che non ricompreremo mai più. Se vi fosse piaciuto questo tipo di format di video, fatecelo sapere qui sotto con un commento e cosa dire. Niente, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto. Ciao! Ciao!